Il 24 aprile, che è tutto il distaccamento, siamo partiti, siamo andati verso la Valoria con l'intenzione di disarmare i tedeschi che occupavano quella zona in qualità di batterie antiaeree, erano militari che erano addetti alle batterie antiaeree. Ci era stato comandato di andare su per disarmarli e purtroppo io facevo parte dei primi cinque e salendo su una valletta abbiamo commesso l'errore, è stato un errore, di porgere le spalle ai tedeschi. Giunti a metà di questa valletta i tedeschi ci hanno investiti con un fuoco terribile, erano, mi ricordo sempre, 24 aprile alle ore 16.30. Noi i primi cinque, i primi che eravamo una ventina, eravamo 20-22, i primi cinque, io facevo parte di questo gruppo dei primi cinque, non siamo più potuti muoverci, siamo stesi nelle fasce e loro continuavano a martellarci. I nostri compagni che erano arretrati, se ne sono riusciti a buttarsi nella forza, c'erano delle canne, c'era un po' di erba alta, sono riusciti a fuggire. Noi cinque siamo rimasti intrappolati in questa fascia e tenendoci sotto tiro per più di un'ora, con mitragliere da 20, mi ricordo che c'era un albero di frutta che era stato praticamente spogliato dai rami che ci cadevano addosso perché le pallotte tagliavano questi. I tedeschi ci hanno circondato, io li ho visti, io personalmente li ho visti pur essendo sdraiato in terra e mi ero scavato una fossa per metterci la testa, per proteggermi la testa, ho visto i tedeschi che si stavano circondando, l'ho gridato ai miei compagni che erano anche loro a qualche metro da me, però non abbiamo potuto fare niente, i tedeschi sono venuti giù e nel momento in cui io alzo la testa vedo il tedesco che mi punta, uno dei tedeschi mi punta e io ero steso così, mi ha ferito al braccio, mi ha colpito al braccio e non mi è rimasto altro che arrendermi. Tre dei miei amici erano già stati presi perché erano un po' più alti di me, una fascia o due più alta di dove li trovavo io. L'altro mio amico che era a fianco a me, lui ha fatto il morto, come si dice, fingeva di essere stato colpito e i tedeschi sono andati giù a calci nel sedere, l'hanno preso prigioniere anche a loro. Ci hanno malmenati ben bene, senza esagerare, però ci hanno preso tutto quello che avevamo, l'orologio, mi ricordo, avevo qualche soldo, qualche portafoglio, e ci hanno incolonato, ci hanno portato la batteria di Valoria, dove adesso c'è, credo ci sia l'ospedale, e ci hanno messo contro il muro e ci hanno detto che entro pochi minuti ci avrebbero uccisi. La parola più usata da loro era Io non conoscevo il tedesco, ma a quell'epoca era molto chiara, purtroppo quella era una frase che si conosceva. Eravamo ormai rassegnati tutti e cinque, quando improvvisamente, dopo una bella mezz'oretta, ci hanno tenuti lì una mezz'oretta, feriti, io e un mio amico erano feriti nelle gambe, avevano due palottoli in una gamba, gli altri tre no. E ci hanno messo contro sto muro, io con le braccia alzate. Dopo una bella mezz'oretta è venuto un ufficiale, mi ricordo che con l'acqua dell'occhio mi sono voltato, e ho visto questo ufficiale che parlava concitatamente con i suoi soldati, e ho afferrato una parola, che per me è rimasta impressa e mi ha ridato la speranza, perché ormai l'ho rassegnato. Gli ha detto, ha parlato in tedesco un po', poi si è rivolto a noi e ci ha detto in prisione. Io quella, era un mezzo tedesco, un mezzo italiano, però era sufficientemente chiara, non voleva dire kaput, ma era prisione, la cosa era diversa. E infatti ci hanno rinchiuso tutti e cinque, in due cellette diverse, tre da una parte e due dall'altra, siamo rimasti tutta la notte lì, purtroppo perdendo abbondantemente sangue, e però devo anche dire una cosa, che a un certo momento hanno i due feriti, sia io al braccio, l'altro alla gamba, questo particolare lo devo dire, mi hanno fatto un'iniezione, risultata poi un'iniezione antitetanica, dopo all'ospedale mi hanno detto che hanno fatto un'iniezione antitetanica. al mattino dopo, il 25, alle 9, ci hanno prelevati, ci hanno messi in colonna e ci hanno portati giù alla villetta, in una villa che è esistente ancora adesso, adesso io non so come si chiamasse, ci hanno rinchiuso, lì di nuovo, in due camere, lì non erano celle, là erano celle, queste erano due camere, al piano superiore, erano circa le due del pomeriggio, quando abbiamo capito che i tedeschi se ne stavano andando, vedevamo attraverso la finestra, che erano concitatamente impegnati a prendere armi e bagagli, per andarcene, però sentivamo, contemporaneamente sentivamo anche dei scoppi, e pensavamo che, io mi sono preoccupato, i miei compagni, dicevo, guardate che qui ci fanno saltare all'aria, perché non ci uscideranno direttamente, ma ci fanno saltare all'aria, sentite, questi scoppi sono tutti, e allora presi dal panico, cosa che poi non mi hanno fatto saltare in aria, la villetta, però noi presi dal panico, rischiando molto, oggi non lo riuscirei più a fare, ci siamo buttati tutti e cinque giù dal secondo piano, su un terrapieno morbido, devo dire, perché era un giardino, c'era delle erba, ci siamo buttati tutti e cinque lì, giù, poi, pensi che erano tre in una camera e due in un'altra, però ci siamo parlati attraverso i muri, sfondiamo la porta, sfondiamo la porta e buttiamoci giù, di fatto abbiamo sfondato sta porta, ci siamo buttati giù, poi c'era un muretto di circa due metri da saltare, per entrare ancora nella strada, per poi fuggire, e quelli che erano, i tre che erano sani, sono saliti bene, ma io e il mio amico feriti, non ce la facevamo, allora facendo catena, ci hanno tirati su di peso, non vi dico il dolore, ci hanno tirati di peso, e quando siamo stati in strada, siamo fuggiti, siamo scappati senza avere una meta precisa, se non che abbiamo trovato una porta, di campagna, allora non c'erano le case che c'erano adesso, lì era tutta campagna, in quella zona lì, abbiamo bussato, e devo dire, e qui lo dico, anche se, eravamo fortunati, perché abbiamo bussato la porta, del dottor Frugoni, posso dirlo, il nome no, il dottor Frugoni, che aveva intuito tutta la faccenda, ci ha aperto, ci ha fatto entrare, ci ha portato in una cantina, ci ha medicati, ci ha rifocilati, un po', ci ha tenuto lì un paio di ore, però poi ci ha detto, ci aveva insieme, mi ricordo, avevano i figli, la moglie, la mamma, era tutta la famiglia, ci ha detto, guardate, io non vi posso tenere, ho paura, perché vi stanno cercando, stanno correndo su e giù per la strada, vi stanno cercando, io ho paura, e io vi do la possibilità di fuggire, da un lato opposto della casa, però vi dovete andare, cosa che, di fatti, ci ha accompagnati, su un piccolo, un piccolo rialzo, terra pieno, e poi ci siamo volati giù, e ci siamo trovati poi, in città, nella zona che, in quel momento, era la prima zona di Savona liberata, Villa Piana, da dove eravamo partiti, siamo arrivati in Villa Piana, e di lì poi ci hanno, mi ricordo, un po' travestiti, ci hanno caricato, io e il mio amico ferito, sulle barelle a mano, allora c'era la barella a mano, e ci hanno portati all'ospedale di Savona, e lì poi, va bene, il resto, non so se valga la pena di dirlo, le cure, le cose che poi non è bastato, perché è nata l'infezione, trasferita a Santa Corona, curata a Santa Corona, mi hanno salvato il braccio, perché parlavano di tagliarlo, e devo anche dir grazie ai primari di Santa Corona, che questa è la conclusione della mia attività resistenziale, poi non so se questo è per me, è un ricordo indelebile, perché, ma non ho paura di dirlo, lo dico adesso, questa è una frase che lo dico a parte, rifarei tutto quello che ho fatto, non rimangerei, non mi tornerai indietro, per nessuna ragione al mondo, perché oggi come oggi, se possiamo dire quello che pensiamo, se possiamo dire di essere liberi, di vivere in un paese, in cui ognuno può esprimere le sue opinioni, e questo valeva la pena, è valsa la pena di quello che abbiamo fatto. Un particolare che mi soviene, il giorno, seguenti a 25, 26, adesso esattamente non lo so, dall'orologio tuttora esistente del vecchio ospedale San Paolo, un farmacista dell'ospedale, di cui non ricordo il nome, installatosi dentro la nicchia dell'orologio, sparava sulla folla in piazza, certamente cercando di centrare partigiani, eccetera. Dopo lunghe ore di assedio, è stato catturato, portato nella darsena, la vecchia darsena, la parte vecchia darsena del porto, e giustiziato.